Vuoi sbloccare la nuova skin Overdrive Buzz Godzilla? Dal 29 aprile al 20 maggio c'è un nuovo evento su Brawl Stars. Non hai Buzz? Non preoccuparti, Buzz è disponibile per lo sblocco nello shop. L'obiettivo principale dell'evento è quello di raccogliere più uova mostruose possibili che contengono mutazioni, monete, punti energia, crediti, bling e skin a tema. Le uova le puoi ottenere dalle vittorie giornaliere vincendo partite della nuova modalità dell'attacco dei mostri o in numero ridotto tramite l'offerta del negozio. Ma dove vanno tutte queste uova? L'evento è dedicato ai club e tutti parteciperanno per riempire il mega uovo. Nel suo interno ci sono diversi traguardi che una volta raggiunti permettono di sbloccare le gemme. Se il club riesce ad ottenere 1250 uova mostruose per riempire il mega uovo tutti i membri del club ricevono la skin Overdrive Buzz Godzilla. Per scongiurare il rischio di griefing i membri di un club vengono confermati in maniera irreversibile al suo interno dopo che l'evento è iniziato e avranno contribuito ai progressi verso il mega uovo. Come funziona la nuova mappa dell'attacco dei mostri? L'obiettivo è distruggere quanti più elementi della città possibili. Un giocatore di ogni squadra può trasformarsi nel potente Godzilla o Mecha Godzilla ottenendo così capacità di distruzione aggiuntive. Vincere la partita permette di ottenere un uovo mostruoso mentre se si perde si ottiene uno stradrop raro. Ogni 4 giorni comparirà una nuova confezione di uova che permetterà di raccogliere fino a 6 ricompense. Cosa ne pensi di questo nuovo evento? Parliamolo insieme nei commenti e via!